Quando sul mercato arriva un nuovo top di gamma, come di consueto arrivano anche i primi confronti e per il Galaxy S9 Plus di Samsung iniziamo con l'iPhone X di Apple. Un confronto che personalmente non amo molto fare, così come tutti quelli tra Android ed iOS, dove appunto il sistema operativo a fare la differenza ed ognuno può preferire l'uno o l'altro. In questo confronto quindi mi focalizzerò maggiormente sul comparto fotografico che vede su entrambi l'adozione di una doppia fotocamera stabilizzata da 12 megapixel. Ma prima di iniziare vi invito come di consueto ad iscrivervi ad HDblog se ancora non lo avete fatto, ad attivare le notifiche per non perdervi tutti i nostri video ed anche a mettere un mi piace se vi piacciono le nostre recensioni. Ma iniziamo! Design rinnovato rispetto al passato per l'iPhone X che ha una scocca in acciaio e parte posteriore in vetro. Grazie alle dimensioni inferiori, con una sola mano l'iPhone X si utilizza meglio di Galaxy S9 Plus che pesa 189 grammi, 15 grammi in più. Design più conservativo per lo smartphone di Samsung che è quasi del tutto identico alla sua precedente generazione anche se la scocca leggermente più pronunciata e ora in alluminio 7300 più resistente alle deformazioni in caso di urti. Porta Lightning sulla parte inferiore per l'iPhone X, porta USB Type-C invece per il Galaxy S9 Plus che mantiene fortunatamente ancora il jack audio da 3.5 mm. Per lo sblocco l'iPhone X si affida unicamente al Face ID che consente il riconoscimento tridimensionale del volto, un sistema che personalmente ritengo molto rapido ed affidabile. Il Galaxy S9 Plus invece, oltre al sensore per il riconoscimento dell'iride, migliorato rispetto al passato, ed al riconoscimento del volto 2D mantiene il sensore per il riconoscimento delle impronte, non tra i più veloci ma sicuramente in posizione più comoda da aggiungere rispetto al Galaxy S8 Plus. Entrambi sono resistenti ad acqua e polvere, ma il Galaxy S9 Plus ha certificazione IP68 contro la IP67 di iPhone X. Processore Apple 11 Bionic, Esa-Core, supportato da 3 GB di memoria RAM e tagli di memoria da 64 GB e 256 GB, non espandibile processore Exynos 9810, octa-core con 6 GB di memoria RAM per il Galaxy S9 Plus, che anche in questo caso può avere sia 64 GB che 256 GB di memoria integrata, che possiamo espandere in questo caso tramite la microSD. Prestazioni davvero ottime su entrambi, l'iPhone X aggiunge punteggi maggiori per quanto riguarda i benchmark, ma il Galaxy S9 Plus offre sicuramente una migliore gestione delle applicazioni multitasking, applicazioni che sono anche un po' più rapide ad avviarsi e possono essere anche messe in finestre flottanti. L'autonomia è bene o male simile, nonostante la batteria del Galaxy S9 Plus sia più capiente rispetto a quella di iPhone X, 3500 mAh contro 2716 mAh, per entrambi c'è la ricarica wireless più rapida sul Galaxy S9 Plus. Entrambi offrono anche una buona qualità audio tramite gli speaker stereo che sul Galaxy S9 Plus sono ottimizzati da AKG e danno il Dolby Atmos. Per quanto riguarda i display, a mio avviso abbiamo i migliori pannelli AMOLED disponibili sul mercato ed entrambi sono realizzati da Samsung. Il Galaxy S9 Plus ha un pannello da 6.2 pollici HDR curvo con disoluzione di 1440 x 2960 pixel ed una densità di 529 ppi, mentre l'iPhone X ha un 5.8 pollici con disoluzione di 1125 x 2436 pixel e funzione True Tone che regola automaticamente la temperatura del bianco a seconda dell'illuminazione ambientale. Il rapporto di forma è 18.59 per il Galaxy S9 Plus e 19.59 per l'iPhone X. Anche se la differenza non è così marcata, preferisco un po' di più il pannello utilizzato sul Galaxy S9 Plus. E veniamo quindi al comparto fotografico. Entrambi hanno una doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel con stabilizzazione ottica su entrambi i sensori. iPhone X ha un'apertura focale f1.8 sul sensore principale ed f2.4 sul teleobiettivo. Il Galaxy S9 Plus invece sul sensore principale ha l'apertura del diaframma selezionabile tra f1.5 ed f2.4 sia in automatico sia in manuale quando utilizziamo la modalità di scatto Pro. Apertura f2.4 invece sul teleobiettivo che su entrambi i device consente una sorta di zoom ottico 2x. Per quanto riguarda invece le fotocamere anteriori, l'iPhone X ha una 7 megapixel a fuoco fisso con apertura f2.2. Il Galaxy S9 Plus invece ha una 8 megapixel con apertura f1.7 e messa a fuoco automatica. Dal punto di vista qualitativo entrambi riescono ad effettuare degli scatti di ottima qualità in condizioni di buona illuminazione ambientale, ma sul Galaxy S9 Plus ho trovato un po' di dettaglio in più ed anche una gamma cromatica più ampia rispetto ad iPhone X. Di contro, le foto del Galaxy S9 Plus hanno qualche artefatto in più ed una leggera perdita di qualità nelle zone più periferiche. Anche la messa a fuoco l'ho trovata più rapida e precisa sul Galaxy S9 Plus. Quando le condizioni di illuminazione ambientali sono più difficili, invece, l'apertura f1.5 del Galaxy S9 Plus fa la differenza, consentendo degli scatti più luminosi e definiti di quelli di iPhone X. Anche la fotocamera anteriore del Galaxy S9 Plus, grazie alla messa a fuoco automatica ed all'apertura f1.7, consente di ottenere degli scatti più luminosi e definiti non solo sul soggetto in primo piano. Anche la regolazione dell'esposizione l'ho trovata più accurata rispetto a quella di iPhone X. Per quanto riguarda i video, l'iPhone X si comporta un po' meglio rispetto al Galaxy S9 Plus. Entrambi possono arrivare ad una risoluzione massima 4K a 60 frame al secondo. Il Galaxy S9 Plus ha anche il Super Slow Motion a 960 frame al secondo. Su entrambi i video sono fluidi e dettagliati, ma su quelli di iPhone ho apprezzato maggiormente la stabilizzazione. Al contrario, per quanto riguarda la registrazione audio, ho apprezzato maggiormente quella del Galaxy S9 Plus, che a differenza di iPhone X è stereo. Mi riparo. Il Galaxy S9 Plus viene venduto a 999€ in versione da 64GB, si sale a 1099€ invece per la versione da 256GB. L'iPhone X parte da 1189€ per la versione da 64GB ed arriva a 1359€ invece per la versione da 256GB. Come detto in apertura e come scontato in questo tipo di confronti, qui è il sistema operativo a fare principalmente la differenza e la scelta diventa molto più personale. Entrambi sono comunque molto belli dal punto di vista estetico ed offrono anche delle ottime prestazioni, ma Samsung quest'anno è riuscita ad aggiungere una qualità fotografica decisamente elevata sul suo Galaxy S9 Plus. Ma per avere qualche informazione in più su questi due smartphone, prevedere anche un confronto fotografico, vi invito a leggere anche l'articolo che ho da poco pubblicato sulle pagine di HDblog. Il link, come di consueto, lo trovate in descrizione. Antonio Monaco per HDblog.